Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato sabato scorso l'intervento di recupero di corso Vittorio Veneto a Grotta Minarda, realizzato con fondi europei programmati da Palazzo Santa Lucia. Tra l'altro egli di Ixit. Mi pare che dalla regione ci sia finalmente l'attenzione giusta verso i territori irpini che per decenni, francamente, sono stati dimenticati da Dio. Cosa dire? Poiché l'unico politico che da queste parti si è sentito un padre eterno e ciliaco de Mita, devono stargli ancora a fischiare le orecchie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.